Io ho chiesto un consiglio di chiudere i cantieri, ma è naturale che senza un decreto legislativo non è che possano chiudersi i cantieri to court. Tant'è vero che abbiamo anche chiesto sia al nazionale, con il nazionale, al nostro governo e al nostro governatore, il presidente Marsiglio, che si adoperassero per gli ammortizzatori, soprattutto i sociali, per le nostre maestranze. Perché senza ammortizzatori sociali non è che si possono lasciare intere famiglie a casa e senza stipendio. È naturale che chiediamo anche la moratoria dei debiti, la moratoria dei fidi, chiediamo la sospensione del pagamento della tassazione, il versamento dei contributi, perché in questo momento senza lavorare non siamo neanche nelle condizioni di poter far fronte a questa situazione. Lei ha invitato a chiudere i cantieri, ma potrebbero in questo caso, ci sono delle deroghe per cantieri che invece devono necessariamente andare avanti? Necessariamente, noi come chiediamo che siano aperte tutte quelle fabbriche che siano necessarie a mandare avanti un paese come l'agriolimentare, è anche importante che cantieri edili necessari per la popolazione e per mandare avanti la vita normale siano aperte. Che so, mi riferisco all'edilizia sanitaria, mi riferisco a tutto ciò che può essere necessario e di somma urgenza, mi riferisco a quella riparazione di infrastrutture necessarie al paese per potersi muovere.